Il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero ha proceduto alle nomine della nuova giunta. Lunedì prossimo nell'aula di Palazzo San Francesco si svolgerà il primo consiglio comunale. All'ordine del giorno l'insediamento dell'assise civica, la convalida degli eletti, l'elezione del presidente e del vice del consiglio comunale e dei segretari d'aula ed il giuramento del sindaco neoeletto. I componenti della giunta sono Franco Casciani, assessore vice sindaco con delega ai lavori pubblici, manutenzione e verde, ricostruzione, servizi cemiteriali, rete gas, esternalizzazione e servizi, farmacia, polizia locale, lavoro e formazione. Katia Di Marzio, bilancio e finanze, società partecipate, patrimonio, contenzioso. Katia Di Nisio, ambiente, protezione civile, politiche della montagna, urbanistica, progetti urbani, centro storico, politiche della casa, politiche giovanili e agricoltura. Attilio D'Andrea, trasporti, traffico e mobilità sostenibile, transizione ecologica, industria, commercio, artigianato, politiche europee, PNRR, politiche sociali e sport. Emanuela Ceccaroni, cultura, turismo e istruzione. Con l'atto di nomina di ieri è stata formalmente costituita la giunta comunale. L'obiettivo principale è quello di entrare subito nella piena operatività per dare una risposta ai tanti problemi che assillano la città. Quindi noi abbiamo voluto subito varare la giunta in modo tale da essere presenti sui problemi e dare una risposta agli stessi. È stata una scelta, questa determinata dalla volontà, ma che si era già palesata durante la campagna elettorale, di dare adeguato risalto alla componente femminile, al genere femminile. Come lei sa, il legislatore impone delle prescrizioni in ordine alle cosiddette quote rosa, però noi siamo andati oltre le prescrizioni del legislatore volendo dare adeguato risalto, adeguato valore alla componente femminile. Restano nelle competenze del sindaco di Piero Sanità, politiche del personale, servizi demografici, semplificazione amministrativa, innovazione, legalità e cittadinanza. Lunedì c'è il primo consiglio comunale. Sì, è un appuntamento importante perché andiamo a formalizzare con questo con questo evento la piena operatività del consiglio comunale, quindi non solo dell'aggiunta ma dell'intero consiglio, nell'auspicio appunto che questa consigliatura possa essere una consigliatura fecunda rispetto agli interessi della città.